Scatta la soluzione più semplice per il disastro del volo Air France 447 Rio de Janeiro, Parigi, che il primo giugno 2009 veniva operato da un Airbus 330-200 a lungo raggio. L'incidente sarebbe stato causato da una grave fase di stallo dovuta alla doppia manovra opposta effettuata dai due piloti in fasi successive. L'aeromobile si trovava a 565 km dalla costa brasiliana ad una quota di 10.760 metri in mezzo ad una tempesta annunciata. Lo stallo aerodinamico fa piombare il jet sull'Atlantico, dove affonda. Muoiono 228 passeggeri. I magistrati hanno seguito le raccomandazioni dei pubblici ministeri assolvendo tanto Airbus che Air France. Nel loro rapporto del 2012 gli investigatori avevano scoperto che l'equipaggio dell'AF447 ha gestito male la perdita di velocità, con i sensori bloccati dal ghiaccio e con la prua troppo alta rispetto alle condizioni di crisi che hanno annullato la velocità. Le associazioni dei parenti delle vittime daranno battaglie in appello. Grazie. Grazie.